Il maestro Beppe Vessicchio è noto per essere musicista, direttore d'orchestra, compositore, personaggio televisivo italiano, per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ma forse in pochi sanno che il maestro ama collegare la musica alla natura, appurare e sperimentare le straordinarie proprietà che il suono ha sugli esseri viventi, ed in particolare sulle piante. La musica infatti aiuta a far crescere meglio le piante e probabilmente le sue proprietà vanno oltre quello che attualmente conosciamo. Cercare di collegare i linguaggi, quindi collegare quello che sembra essere solo artistico, che è quello della musica, ma che ha a che vedere tantissimo con la fisica, perché non c'era musicista dei secoli precedenti che non fosse a conoscenza del fenomeno fisico del suono e di tutte le sue possibilità. E quindi collegare, per esempio, ecco, la scienza con l'arte, credo che... Provare un trait d'union, in qualche modo? Guardi, collegamento secondo me c'è da sempre, perché il suono è un fenomeno fisico, ma non solo con la fisica, ma anche con il verbo, con la parola, il rapporto tra il suono specifico e il suono della vocale. Un po', ecco, la musica come linguaggio universale, non per quello, per come lo si intende in generale, ma per la sua capacità di interagire con tutto quello che c'è intorno. Io già, voglio dire, sperimento la musica sulle piante, la musica sul vino, su tante cose, perché credo che nella musica risiedano proprietà che vanno oltre quelle che noi conosciamo. Grazie.